Ma voi sapete come funziona quel piccolo strumento che misura il pitch dell'eli che sembra un orologio? Sì, 12 e mezza è 100% In realtà è contrario a foto Ah, perché io me lo ricordo in close No, è così, ad esempio il 109 è così Il 110 è lo 0% Diciamo che più si avvicina alle ore 12 più il passo è breve Più si allontana più è lungo Ok Quindi se vuoi fare il rullaggio, quindi avere la massima tempo sul motore deve essere a 12 e mezza Ragazzi, io sul coso della prezzina leggo 0 litri No, ma ci deve essere la lancetta che te la sposta, ricontinui Mi sposta il cazzo No, 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 aspetta, ok, ok, ok Ok, corretto per 0, 0, 0 Ebbene non ce la facciamo, troppo po' la prezzina No, ma tagliamo a due anni vieto Minchè rompi coglioni, inizia andare a sganciare Santa trifola Che bella formazione di cosi E' un abbalto, ignorante Ah, ce la facciamo, va tranquillo Ok, dai, livello adesso Prue esatta 0, 3, 5, 5 Sempre 1 e 1 di alta Livelli 1 a fa, ma stai ancora salendo Eh, cazzo, non si capisce una minchè, è tutto bianco qua Gioia mia, se livelli metti l'autopilot Ok, autopilot allora Non mi piace mettere l'autopilot a mella E' tutto 3, 5, 5 3, 5, 7 Fassinante, l'inverno te la godo di più Avendo anche l'estate Veramente a questa piccola non si capisce Dove è la linea dell'orizzonte Bello E' molto inverno Eh, sì Si, stiamo sciando Fai subito il treniere Panna Ottima idea E guarda dietro Ah, minchia, c'hai Aspetta, ti apro il cord Ah, guardami Minchia, tirami la foto Dai, tirami la foto Minchia che sorriso Dai, minchia Aspetta che c'è il montante che scascia la minchia Cazzo, non va su sta testa Eh, si Eh, son problemi Pensa che c'hai 30 anni neanche Aspetta, cazzo Aspetta, con una bella foto Se vuoi Guarda, chiudo che la capota vuole Puoi avere la capota del metradiere? Si, quando vai nel metradiere si Ma anche in modo Eh, si, se no non riesci a sparare Con cosa? Con il tasto Che è successo? Mi ha buttato fuori Infatti ti vedo in una coppia Minchia che sono ingeggiato Quale sei ingeggiato? No Ho perso il tettuccio Eh Hai fagato tasto Non hai fatto mazzo No, ho detto il testo T Minchia il testo C Ignorante In culo In culo In culo No, sentovi Un 100 Manca un 110 da prendo Sto volando senza tettuccio Eh, copriti Andare la colpa Viro leggermente Viro leggermente a destra Eh Minchia adesso Eh no Qua No, dico adesso Mentre mi stavo facendo la sigaretta Vai cazzo Devi stare attentissimo Io sono sempre attentissimo Nuova prua 0 0,5 Dunque Prima si dice E poi si fa Era una prova Eh Provati la bannarda Di tuo sorello Il lazzocco Lampestato Pan C'hai una sorella? Oh Che c'ho fatto Prodo No In culo Il gatto non mi piace Adesso Non cambiare Trua Perché mi sto facendo una sigaretta E' proprio snickeggiato Non è Non è Non è vero No Il gatto mi ha buttato fuori Oh Che proie Vinto Gattieri Sarà a bassissima quota Riccino la foresta Sarà un Eh Sarà a livello Il livello del terreno Sarà una merda A provarla Vediamo se ha implementato il congelamento Il congelamento Il congelamento Della punta dei piedi Infatti Così secondo me Aspetto In camera Sto simulando Anche Inverno Rosso È bello Una proposta Grazie Ma secondo voi Implementeranno anche i bordelli Visto che non c'è niente I terri armati Sì E' una persona E' una persona Dunque Sarà una barba Eh Io non ho modo di vedere quello che fate No Beh Puoi andare sul motraiere Lo sblocco E' una persona Di ciumia Come si fa? Accumiglia Allora Became a gunner Ok Use a blade Manta C'è C'è il disponibile Allora Venga a farti compagno Corri Non ho dentro Ok il sabatoio 3 e 4 sono vuoti eh, abbiamo solo due sabatoio di benzina a noi che figata eh bello eh fanno un quadratone una foto qua, quant'è un quadratone a distanza? 10 km un quadratone di 10 km Marta se ti giri ti faccio la foto almeno è 3 e mezzo si ragazzi 25 km del target dopo torniamo su Samofalov eh si, anche perchè non ci facciamo tornare indietro c'è un sacco di roba se ricordo bene a parte l'artiglieria, c'era anche l'amburante, camion, bisogna fare fuori tutto eh ok quindi meglio andare con la bomba alla volta e di solito c'è me allora vediamo mentre vedo forse la foresta con il fiume aspetta mi ragione buttiamo le bombe e mitragliate ecco qua qua io ne vedo solo due di 110 dove è il terzo? eh io sono un po' indietro ti rallento avendo perso eh rallento non è colpa mia io ho detto testo T sì no lo spiega su po' mi disegnano malissimo poi c'è anche l'esta chissà che cosa penso di me non potrei che pensare bene in foto ma come un ciclo ti ho fatto ho la visuale su foto proprio bello il 190 guarda che roba all'altro sì ah ah Anno, ma se ti sparassi? Ehm, ma come sparami dopo che bombardo? Ehm, perché è difficile che dica vittima aerea nel mirino Ehm, basta che non prendi un giletto Dai, concentrati adesso, dai Ok, dai, vado giù Facciamo una picchiata Mamma mia che brutta sensazione quando non si pilota Chiudete tutti i radiatori Ho chiuso tutto, anch'io dietro Ok Manta, vai tu dietro al panno Dottori a zero Ma lo usate come giallo praticamente? Sì, sì Distrattore, questo è un giallo Artiglieria in vista davanti a noi Stiamo un po' alto, 310 Comunque bello Viso all'artiglieria Vedo anche delle flac Ok, ok Ok, il boffardo Questo gruppetto dove c'è Prima, vicino alla strada E' sganciato l'uvo E' sganciato l'uvo Si è sganciato Ah no Sganciato Ok Vado Ok, torno giù Non ha disintegrato tutto quello che vedo Ok, fatto che si è in attacco E' mancato tutto E' un capitale Caccia nemici, caccia nemici, caccia nemici Si, è pieno di cazzo eh Cazzo, come si ricarica? Con la... Control R Control R Sì Dove sei quei ragazzi Chiamati di visual? Si, meglio perchè Vedo traccianti qui dietro Puoi lancio C'è questo bug delle ali che bisogna che si stendino però Distrutto Abbiamo tutta ragazzi Caccia non successe Manta, c'è caccia in coda Aiuto a parte la mano Faccio la telefonata ragazzi Faccio la telefonata ragazzi Ok 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 Abbiamo da dietro Manta Manta Cazzo 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 Si 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 Due chilo con 110 praticamente Nooo Va'è quello che ho fatto